L'idea di dotare al centro storico di un dettibile datore aveva l'obiettivo di assicurare un solente intervento nei casi di arresto cardiaco che potrebbe verificarsi lungo le nostre vie in questo paese, in piazza, nei negozi, disponibile H24 ore in caso di necessità. Dispositivo voluto da sottoscritto collaborando insieme con tutte le autorità qui presenti inaugurando attraverso questo defilidatore, attraverso le varie associazioni di Genazzano proprio contribuendo a questo bene comune. Se oggi siamo in grado di inaugurare questo defilidatore è grazie a quel lavoro che il coordinato del dono Alessandro ha visto insieme la partecipazione di tante associazioni di Genazzano, soprattutto quelle del volontariato, la cui rappresentanza principale vedete qui attorno a noi, che hanno contribuito sia economicamente sia partecipando a una cena di sottoscrizione che viene fatta al castello, al suo acquisto e alla sua realizzazione. benedisci l'opera delle nostre mani e fa che rispondendo in te il sommo bene instauriamo rapporti di fraternità e di soccorso per Cristo nostro Signore. amore. 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 amore.